ma allora questa è una spaccalegna ls6 che ho comprato pochi giorni fa direi dal punto di vista dell'acquisto ottimo acquisto ci ho risparmiato circa 80 euro rispetto a un brico qui vicino mezz'ora per montare la macchina l'ho messa qua dentro e in mezz'ora di lavoro ho fatto sto pacco enorme di ceppi di legna l'uso è semplicissimo la macchina ha 6 tonnellate di pressione quindi non la fermi neanche a spararle dicevo uso semplicissimo basta mettere in moto il motore con una mano e attivare il martinetto con l'altra e il teppo si spacca a questo punto la macchina torna indietro uno prende il ceppo eventualmente lo gira e fa un altro passaggio e ancora una volta il cerco si spacca vi dicevo poco più di mezz'ora di lavoro e tutto questo pacco di legna è stato prodotto facciamolo un'altra volta direi che la macchina è fantastica se continua così sono felicissimo dell'acquisto grazie ciao a tutti